C'è un complesso italiano che ha una dieta particolare che gli consente di essere ai primi posti da un sacco di tempo e sono sempre e costantemente i numeri uno sono i... BOOM! Eccoli! Che cosa ci regalate adesso? La sera facciamo non lasciarmi mai più e poi un estratto dalla nostra tournée un riarrangiamento dell'ultimo una cosa fatta apposta per votare la voce cioè l'ultima notte di Cato Signore e signori, ragazze, ragazzi, mamme e nonne, i BOOM! Grazie ti hai chiamato, parla ancora Dimmi dove sei e come stai Io mi so arrangiare, qui sai non c'è nessuno Anche se ho bisogno di qualcuno C'è un dolore duro da guarire Certo non è solo colpa tua Tu mi schiavi troppo Sesso con l'amore Io puntavo troppo Mi scontri col cuore Non lasciarmi mai più E no Non lasciamoci più Grazie per ora Per esistere ancora In questo momento perfetto Se stai ritornando da me Sai che mi trovi Hai ancora le chiavi Se piangi e non riesci a parlare Non riappaccare Non lasciarmi mai più E no Non lasciamoci più Non lasciarmi Non lasciarmi Non lasciarmi Non lasciarmi Vai Non lasciarmi Non lasciarmi Non lasciarmi Vai Grazie a tutti 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 Eternamente Poo E Poo Ciao Ciao Red Ciao Stefano Ciao Dovi Ciao Roberto Ciao Ciao